Nel questo video cosa vuole dirti il tuo subconscio o inconscio? Scegli una carta prima di affrontare il tema, però iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco ufficiale, seguimi su TikTok e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Ma veniamo al tema. Cosa vuole dirti il tuo inconscio? Allora, io utilizzerò i tarocchi zen di Osho, i tarocchi del Transurfing e tu puoi fare donazioni al canale se ti va di fare donazioni che sono ben accette. Quello che devi fare puoi scegliere o il Buddha, o la piramide, o il Buddha, o la piramide, o la stele. O il Buddha, o la piramide, o la stele. Cosa vuole dirti il tuo subconscio? Scegli una carta. Bene, cosa vuole dirti il tuo subconscio? Scegli una carta. Se ti fa piacere, ovviamente condividi il video con tutti i tuoi amici. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco ufficiale. Seguimi su TikTok e fai donazioni al canale. Allora, partiamo perché hai scelto il Buddha. Cosa vuole dirti il tuo inconscio? Scegli una carta. Stesa del Buddha. Cosa vuole dirti il tuo inconscio? Scegli una carta. Vediamo cosa vuole dirti il tuo inconscio. Allora, partiamo con la stesa del Buddha. Usiamo per primi i tarocchi zen di Osho, mentre fai donazioni al canale. Vediamo. Allora, l'inconscio ti dice guarda al tuo interno, riguarda al tuo interno. Perché probabilmente sei troppo materialista, sei troppo voltata all'esterno. Intanto bisogna guardare dentro di sé. Anche perché prima o poi avrete tutti un appuntamento con la morte. Per cui bisogna affrontare questa paura, che è un po' la madre di tutte le paure. La paura della morte, la paura che il nostro corpo smette di funzionare. La nostra mente si dissolve. E ognuno, poi c'è chi crede nella reincarnazione, chi crede in altre cose. Però, se siamo troppo proiettati sull'esterno, perdiamo, diciamo, la sensibilità, la connessione con il nostro sé interiore. Quindi metteremo in atto dei meccanismi di difesa da questa paura, che è la paura della morte, la paura di morire. Il tuo inconscio, infatti, ti sta dicendo, perché ho scelto il Buddha, che ci sarà un evento tragico, traumatico, che ti capiterà. E bisogna saper affrontare anche gli eventi tragici, gli eventi traumatici, per superarli. Quindi la forza di una persona si vede proprio dalla capacità di superare eventi traumatici, che può essere una rottura, un lutto, una perdita, insomma, qualcuno che ti lascia. E ti sta dicendo che devi imparare a condividere con altre persone. Ecco, quindi il messaggio, diciamo, dell'inconscio è finora quello, quello di guardare avanti, guardare dentro di te per superare la paura della morte, e per, diciamo, superare anche questo evento traumatico, che ti capiterà, ma che comunque capitano a tutti, per poter guardare oltre. Insomma, vediamo cosa ci dicono però i tarocchi di Marsiglia. Ricordo che i tarocchi di Marsiglia sono tra i tarocchi più antichi della tarologia francese, sono tra i tarocchi più antichi della tarologia francese, utilizzati anche da Carl Gustav Jung, utilizzati anche da Jodorowsky, e vediamo cosa ci dicono i tarocchi di Marsiglia. Allora, beh, il tuo inconscio ti dice che, come dire, devi anche affrontare un po' le tue passioni, quindi viverti anche le tue passioni, quindi le tue passioni interiorizzate però, questo è interessante perché se non ti vivi le tue passioni interiorizzate non riesci a fare niente. E poi abbiamo il quattro, il quattro di spade che rappresenta un po' sempre l'abbandono da questo punto di vista, quindi ci sarà quest'evento nella tua vita, potrebbe essere un abbandono, potrebbe essere un lutto, potrebbe essere una situazione di questo genere, che però devi avere la forza di affrontare, di affrontare e di superare, collegandoti alle tue radici, perché la cosa importante è collegarsi alle tue radici e affrontare le prove che la vita inesorabilmente ci pone in essere, quindi questo è molto importante. Noi abbiamo le possibilità di superare tutte le prove, ma abbiamo la forza di superarle se ci guardiamo dentro. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi del Transurfing, vediamo cosa ci dicono in merito i tarocchi del Transurfing, Cosa vuol dirti il tuo inconscio? Scegli una carta. Ricordo che siamo sempre alla prima stesa, la stesa del Buddha, i tarocchi del Transurfing. Questo è interessante, ti dicono che devi eliminare i tuoi veleni mentali. Sempre in ottica dell'affrontare le paure, tra cui secondo me la paura principale è la paura della morte, bisogna eliminare i veleni mentali, l'arroganza, gli attaccamenti, la rabbia, perché l'invidia, la gelosia, abbattere i pendoli, quelli che nella terminologia del Transurfing vengono proprio chiamati pendoli, che sono proprio i veleni mentali, quelli che avvelenano la nostra vita e che fanno sì che la nostra vita sia una vita, come dire, non positiva, perché chi si lascia prendere dall'invidia, dalla rabbia, dalla gelosia, vive male e probabilmente muore anche male. E teniamo presente che, per chi crede nella rincarnazione, perlomeno la morte rappresenta un passaggio, ma che se uno muore male rischierà una pessima rinascita, neanche in un regno umano, magari in un regno animale o d'altra parte. Quindi ti spinge il tuo inconscio a prendere decisioni, quindi devi sapere prendere le tue decisioni e andare avanti, prendendo le tue decisioni. Ecco, questo è per quanto riguarda la prima stesa, quindi nella prima stesa del Buddha c'è questa paura, la paura della morte, il fatto di doversi trovare un giorno al cospetto con la morte, col nostro corpo che ci abbandona, la nostra mente che ci abbandona, e affrontare l'ignoto, che potrebbe essere, per chi non crede in nulla, la dissoluzione totale. Per chi crede nella rincarnazione non è che le cose vanno meglio, perché, come dire, nella dissoluzione totale perlomeno ci sarebbe l'oblio, ma nella rincarnazione si rischia di rinascere in situazioni peggiori ancora. Quindi bisogna, per eliminare, insomma, queste paure, eliminare anche i veleni mentali, rabbia, rancor, egoismo, attaccamento, l'ossessione, l'autogratificazione. E vediamo, passiamo quindi alla stesa della piramide. Vediamo chi ha scelto la piramide, passiamo alla stesa della piramide. Cosa vuol dirti il tuo subconscio? Scegli una carta. Passiamo alla stesa della piramide. Cosa vuol dirti il tuo subconscio? Scegli una carta. Vediamo un attimino. Nentre fai donazioni al canale, mi raccomando, fai donazioni per dare un segno del tuo interesse per il canale, quindi un piccolo segno, una piccola donazione, è ben accetta. Allora, vediamo cosa ci dicono i tarocchi del Transurfing. Allora, il tuo inconscio ti dice che dovresti iniziare, grazie Valeria, dovresti iniziare a viverti una forma di amicizia, perché l'amicizia è importante. Tu probabilmente trascurri un po' l'amicizia e anche celebrare la vita. Probabilmente è un periodo in cui ti stai chiudendo un po' in te stesso, in te stessa, quindi celebra la vita e il messaggio del tuo inconscio e cerca comunque le relazioni di amicizia. Le relazioni di amicizia, l'amicizia è importante, tra l'altro amicizia e amore hanno la stessa, come dire, amicizia e amore hanno la stessa origine. E veniamo alla terza carta. Ebbè, quindi ti dice sempre di riconnetterti alla fonte. Dentro di uno di noi ci sono delle energie, c'è una fonte. Dobbiamo imparare la connessione con le nostre forze interiori. Questo è il messaggio dell'inconscio per chi ha scelto la piramide. Adesso passiamo invece, per chi ha scelto sempre la piramide, passiamo ai tarocchi di Marsiglia. Nel frattempo fai donazione al canale, seguimi su Instagram, su YouTube, su TikTok e vediamo. Allora, un altro messaggio del tuo inconscio è che stai trascurando un po' la tua passione, la tua sessualità. L'inconscio si nutre di istinto, si nutre di passione. Quindi se tu non gli dai passione, lo mandi in stato di sofferenza fondamentalmente. Bisogna dare tensioni emozionali, tensioni emotive. E anche cercare di evitare persone che potrebbero essere deleterie nei tuoi confronti. Perché probabilmente ti stai agganciando a situazioni abbastanza nefaste, a situazioni abbastanza negative che non ti portano dei grandi vantaggi per cui dovresti cercare di mollare queste situazioni ed entrare in una situazione migliorativa. D'altra parte, la possibilità di vivere un amore ce l'hai, ma devi utilizzarla, diciamo, in primis, vivere l'amore per se stessi fondamentalmente. Quindi il messaggio del tuo subconscio è un messaggio d'amore che ti invita a sviluppare l'amore e l'autostima per te stessa e questo credo che sia una cosa buona e giusta. Vediamo inoltre cosa ci dicono i tarocchi del Transurfing. I tarocchi del Transurfing parlano proprio della reazione dell'ostrica, quindi è un po' quello che è venuto fuori all'inizio. Non devi mai chiudere in te stessa, in te stesso, ma devi guardare oltre e andare avanti affinché nasca una stella, anche dalle cose peggiori possono avvenire delle situazioni migliorative. Quindi questo è un po' il messaggio del subconscio, delle persone che hanno scelto la piramide. E adesso passiamo alla stella, mentre fai donazione al canale, se ti va ovviamente, come dire, parlavamo di egoismo, fai donazione al canale, a fare un atto di altruismo, che comunque è ben accetto, e condividi il video con tutti i tuoi amici, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok e su tutti gli altri miei canali. Ecco, quindi, per chi ha scelto la stele, cosa vuol dirti il tuo subconscio? Scegli una carta. Allora, ti sta dicendo che dovresti avere una nuova visione della vita, dovresti vedere le cose un po' diversamente, e dovresti, diciamo, imparare a viverti le cose un po' diversamente, avere una nuova visione della vita, perché questa vecchia visione della vita non ti porta a nulla di buono fondamentalmente. Ti sta dicendo che attraverserai, o sarà necessario, comunque attraversare un periodo di solitudine. solitudine non vuol dire essere da soli, diciamo, solitudine vuol dire essere centrati su se stessi fondamentalmente, questo è interessante. E ti sta dicendo, tu inconscio, che avrai comunque degli eventi karmici, dovuti a vite passate, che si manifesteranno in questa vita, quindi stanno per accaderti degli eventi, potrebbero essere eventi positivi, oppure eventi negativi. Questo dipende un attimino, andiamo a cercare di capirlo, anche con le carte dei tarocchi di Marsiglia. Beh, diciamo che incontrerai comunque, ti dice il tuo inconscio, una persona un po' superficiale nella tua vita. Sì, ecco, un altro messaggio, vedi tu, perché l'amore non entrerà, entrerà anche qua una passione. L'inconscio ti sta dicendo attenzione, attenzione perché potresti incontrare una persona probabilmente sposata, fedifrega e concubina, che ti farà, diciamo, come dire, perdere un po' la testa, deve evitare di perdere la testa. E infatti cerca di essere una persona meno superficiale, perché tutta questa superficialità che hai, vivere la vita un po' senza approfondire, non ti stappo e non ti porterà nulla di buono. Vediamo in più cosa ci dicono i tarocchi del transurfing. Beh, i tarocchi del transurfing dicono che la possibilità di veleggiare ce l'hai, ci può essere il mare in tempesta, ma devi definire un obiettivo, perché nessun vetro è favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Quindi definisci un obiettivo e cerca di perseguirlo andando fino in fondo. Quindi hai le possibilità di farlo, ma devi riuscire a portarlo avanti. avrai un cammino, il cammino all'interno della consapevolezza di te stessa o di te stesso. Quindi è un cammino che devi percorrere, è un cammino iniziatico di molte persone che ci può far vivere anche situazioni molto molto particolari. Bene, quindi abbiamo visto le tre stese del messaggio dell'inconscio, cosa vuol dire l'inconscio, cosa ti vuole dire l'inconscio. Per questo video è tutto, seguimi su Instagram, Massimo Tremasco Ufficiale, su TikTok, e ti ricordo ovviamente di fare donazioni se ti fa piacere. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti e al prossimo video. Grazie. Grazie. Grazie.